Il suo nome ha segnato la storia del cantautorato italiano, perché Giorgio Gaber rimane uno dei pilastri appunto di questo filone musicale. Quest'anno, in occasione dei vent'anni dalla sua scomparsa, ecco che proprio Gaber è pronto a rivivere al cinema nel docufilm Io, Noi e Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani, presentato domenica 22 ottobre in proiezione speciale alla diciottesima festa del cinema di Roma. Il docufilm, promosso dalla fondazione Gaber, è stato poi reso disponibile anche per le sale, il 6-7-8 novembre, prodotto da Atomic insieme a Rai, Documentari e Luce, Cine e Città, distribuito da Lucky Red. Giorgio è stato una persona importante della mia vita, da piccolo mi ha divertito con l'allegria di Goganga, il Riccardo o la Torpedo Blu, e dal liceo in poi mi ha fatto alzare la testa e avere uno sguardo sul mondo, segnando il mio percorso di formazione. Raccontarlo per me è stato soprattutto un modo per ringraziarlo, per tutto quello che nei decenni mi ha dato e soprattutto ha dato a tutti noi. Così ha dichiarato il regista proprio Milani, aggiungendo, è stata una voce importante per tutti noi, anticipando tutto quello che in questi decenni si è avverato, prevedendo che l'ideologia del mercato avrebbe schiacciato tutte le altre, segnando una disperata continuità tra lui e Pierpaolo Pasolini. Per questo, tra le rarissime certezze della vita, ce n'è una sicuramente. Gaber ci serve ancora e ci serve adesso. Io, noi e Gaber dunque promette di restituire al pubblico tutta la personalità ancora oggi viva e attuale del signor G, tra aspetti inediti e racconti sorprendenti. È stato un lavoro lungo e intenso, al quale la Fondazione ha partecipato, rimanendo sempre vicina al regista e alla troupe. Abbiamo avuto il privilegio di assistere a un vero e proprio lavoro cinematografico, il vero cinema applicato al racconto della storia artistica e della vita di Giorgio Gaber, che ci auguriamo possa restare a disposizione di tutti per sempre, proprio come i film classici. Così ha spiegato Paolo Dalbon, presidente della Fondazione Gaber. Quale miglior modo, allora, per rendergli omaggio se non proporvi un brano significativo dell'immenso repertorio, come il conformista che diede anche il titolo a un album omonimo. È un titolo naturalmente ironico, quasi paradossale, per raccontare un personaggio che conformista in realtà non è stato mai e che in più di 40 anni di carriera e in 30 di teatro-canzone ha sempre espresso le proprie idee in modo coerente e sincero, difendendo coraggiosamente il proprio pensiero dai compromessi a cui tanti altri artisti hanno inevitabilmente ceduto. Il disco, e naturalmente anche il brano, erano usciti ad aprile del 2010. L'album, inciso in studio, è il sunto di sei anni di esibizioni dal vivo nei teatri italiani. È stato subito programmato da diverse emittenti radiofoniche che avevano all'epoca dedicato puntate speciali all'evento. I brani sono stati poi profondamente rivisitati, riarrangiati, rivissuti per il disco con nuove sonorità, cercando anche di riscoprire alcune chicche meno conosciute. Noi adesso, appunto, vi facciamo riascoltare il conformista.